Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, ho pronto a costruire un Mac Pro nel 2013, per intenderci questo, con un cestino. Andiamo a vedere qua. Ciao a tutti. 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 Ciao. Ciao a tutti. 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 Ed ecco a voi il risultato finale. Sicuramente può essere il migliore dei dettagli, però per essere il primo progetto credo che vada abbastanza bene. Più avanti farò un upgrade riducendo il volume dei cavi all'interno, installando delle porte di tipo USB-C e per finire un pannello più curato. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere un mi piace al video. E' nulla, ci vediamo al prossimo video. Ciao.